Buongiorno, scommetto che come gli asci è nel panico, ci sono solo due o due o due i basti! Se l'ho fatto! E rimane su! Rimane uno! Come gli asci saprà che è finita! Ed è finita! Abbiamo il digitore, l'orto! Ha vinto la vera! Il volatore della vasca è il nostro nuovo campione! Sì! Che gara! Entra il speciale e il suo shop ufficiale e rivediamo le immagini! L'orso ha percepito l'odore del dog e ci si attenta! L'orso ha percepito l'odore del dog e ci si attenta! E' un po' gli asci capisce perché purtroppo è arrivata che gli ferma a testa! Eh, perché siamo a metà gara! L'orso ha costruito un parecchio dog e l'orso ha comunque di stare tranquillo! Ma del pesamento di competizione, questa è la sua tecnica!